Sì, avanti. Che è successo? Calmati, cara. Non è stato niente. Ti abbiamo raccolta sulle scale. Meno male che abbiamo trovato Piero. Eri svenuta. Sei svenuta qualche altra volta? Soltanto una volta, due settimane fa. Non mi meraviglio. Non ha mai fatto una cura. Bene. Conosciuti i risultati delle analisi, decideremo. Quali analisi? Potresti avere una di quelle terribili malattie africane. Cosa vi salta in testa? State esagerando? Sei una malata piuttosto ribelle, eh? Questo non è vero, io... Calma, non ti preoccupare. Ti ho prelevato soltanto un po' di sangue. Ma perché l'hai fatto? Lo considero necessario. Adesso cerca di riposare. Tornerò domani. Ciao, Maria. Grazie di tutto, Piero. A domani, allora. In macchina ho delle medicine. Scendo, ti accompagno. Papà, non avresti dovuto per... Il tuo padre non c'entra affatto. Sono stata io. In convento comanderà la superiore, ma ora sei a casa. E io sono sempre tua madre. A domani. A domani. A domani. Grazie. Maria? Maria? Che hai? Non stai bene? Maria? No! Cosa ti senti? No! Mio Dio, aiutami! Lasciatemi! Lasciatemi! Mi sbagliati! La muta. La muta. Ma. Grazie a tutti.